Sono brava a fare un'opera delle basi perché comunque è riuscita a non far giocare loro come sanno e a riproporsi sempre. Nel primo tempo rischiando poco, anche se creando poco davanti, nel secondo tempo penso che la squadra si sia anche espressa in fase offensiva ai massimi livelli. Ripeto, il risultato mi sta benissimo perché comunque è un punto importante, però la prova è di quelle molto importante. Piace la mentalità vincente di questa squadra che ha dimostrato di potersela giocare con tutti. Noi abbiamo costruito il progetto, io parlo dei miei quattro anni e in particolare in questi due anni a Dienio Iviarini, noi vogliamo provare di imporre il gioco, quindi vogliamo una squadra che riesca a giocare, riesca a giocarsi le partite su tutti i campi e contro tutte le squadre. e penso che fino ad oggi ci è riuscito. Poi ci possono essere prestazioni, ripeto, più o meno buone, però io devo dire veramente un grande bravo alla squadra, anche se non abbiamo fatto niente perché comunque è questa la prova, ma soprattutto a livello nervoso, a livello caratteriale che la squadra deve mettere sempre in campo. Ciao.